E' un cortometraggio che nasce l'ultimo anno di diploma nell'Accademia a Roma e dove la domanda tra i studenti non era più come fare un film tecnicamente ma piuttosto perché fare un film, che cosa raccontare in un momento, in un contesto storico in cui sembra essere tutto raccontato per immagini. Diciamo attraverso una narrazione minimale ho voluto raccontare gli spazi, i volti e i luoghi che mi circondano e dove sono cresciuto. Il processo creativo si è sviluppato lungo un anno, tutto l'intero ultimo anno scolastico e appunto ha richiesto una lunga preparazione creativa, seppure la narrazione è minimale è ambientato nella periferia romana, vicino al mare, che appunto è distaccata da Roma, dalla grande città e dai grandi luoghi. È stata presentata al Festival di Venezia nella sezione della settimana internazionale della critica e ha partecipato da poco a un festival set trop court di Nizza che appunto ha ricevuto anche il premio come miglior cortometraggio e insomma sta facendo una buona distribuzione. Grazie. Grazie. Grazie.